bella raga buongiorno come state sto andando in ufficio sto approfittando per fare un giro in macchina e fare due chiacchiere con voi visto che agosto è visto che ad agosto è l'unico periodo in cui si può andare in macchina a milano perché non ci sono altre macchine è aumentata la metropolitana milano non so se l'avete saputo mi ha aumentato l'abbonamento mi ha aumentato il settimanale mi sono aumentati praticamente tutte le spese che io faccio per andare in metropolitana quindi alla fine mi sono detto vabbè visto che agosto comunque non ho ancora fatto l'abbonamento ne approfitto vado in macchina c'è l'aria condizionata mi rilasso e magari facciamo qualche altra chiacchierata allora cominciamo con le novità per il canale dal 5 fino al 17 circa non ci saranno video perché vado al mare vado al mare e quindi il canale chiude per un paio di settimane giustamente me la godrò anch'io un po' di vacanza e un po' di relax poi altre novità per quanto riguardano i video so che ultimamente questa settimana non ne ho fatti ultimamente mi sto rilassando un po' troppo però dovete considerare che io non lo faccio per lavoro e non facendolo per lavoro è normale che magari la sera col caldo con la stanchezza della giornata lavorativa mettermi lì e fare tre ore di live non è che sia proprio una cosa come dire rilassante quindi a volte capita che mi vada a letto oppure mi addormenti sul divano poi ultimamente sto guardando sto guardando la casa di carta con con mia moglie e devo dire che è molto molto carina mi piace come serie per chi me l'avesse chiesto ho cominciato a guardarla sono al quinto episodio poi altre novità sto facendo vari giochi sono vari giochi che vorrei portare sul canale li sto provando ce ne sono alcuni tra l'altro che mi sono stati mi sono stati regalati mi hanno regalato i seriali ovviamente sono indie giochi indie sapete alcuni sono molto belli altri invece sono delle cretinate tremende li provo vedo come vanno c'è questo c'è questo sito che emailer mi pare che si chiami che offre offre ti da la possibilità insomma di poter giocare a delle novità comunque sempre indie e comunque insomma qualche giochino carino l'hanno dato anche a me ovviamente in tripla non te li danno a meno che non sei uno famoso ma in quel caso non c'è bisogno di siti eccetera ti contatti direttamente il produttore del gioco vabbè comunque detto questo so che molti di voi cercano di fare le donazioni per fare le donazioni per il canale è molto semplice guardate nella home page su youtube sul mio canale ovviamente sotto al banner dove c'è scritto inizio letterino old school gamer sulla destra c'è fai una donazione comunque aiuta il canale c'è un pulsantino molto facile da riconoscere vicino a quello di facebook e quindi non dovreste avere problemi le donazioni si fanno con paypal o con carta di credito sul tranquillo che la carta di credito la prende sempre tenete presente che mi fate una donazione per dire da 5 euro una cinquantina di euro circa scusate 50 centesimi circa se li prende se li prende paypal ok ed è giusto che sia è giusto va bene qua ancora è lunga perché ci vogliono tre quarti d'ora per andare dove lavoro magari la butto lì eh visto che oggi pomeriggio le quattro sono da solo magari vi faccio fare un giro per l'ufficio che vi faccio vedere dove lavoro quello che faccio eccetera eccetera va bene parentesi arc arc vediamo di portarlo costantemente è il gioco principale del canale alla fine è quello dove mi seguite maggiormente e salvo grosse novità credo che arc continuerà regolarmente il 27 di agosto invece io è quasi sicuro che tornerò a giocare a world of warcraft non so se ve lo porterò perché gli mmo non sono molto seguiti e all'inizio soprattutto finché non si fanno ride è un po' noioso perché vedere uno che livella o comunque sale di livello piano piano è noioso è noioso ve lo dico quindi magari farò qualche video giusto per darvi un'idea di quello che sto facendo non credo che farò live vediamo non è detto e comunque dal 27 di agosto world of warcraft esce con la versione 1.0 quindi torna indietro di 15 anni con questo server vi da la possibilità di giocare come era world of warcraft 15 anni fa perché voglio tornare a giocare a un gioco vecchio tra virgolette di 15 anni perché quella sensazione che ho provato quando 15 anni fa ho giocato a world of warcraft non l'ho più provata da nessuna parte cioè la meraviglia il senso di comunità sentirsi all'interno di un mondo come come è stato per me giocare a world of warcraft non l'ho più provato da nessun'altra parte e è vero che col tempo world of warcraft ha perso un po quello spirito di quel sesso sociale ecco diciamo così quella possibilità di giocare assieme agli altri comunicare eccetera ed è sempre diventato più un single player cioè oggi se voi giocate world of warcraft avete la possibilità di giocarlo sempre assieme agli altri per forza dovete giocarlo assieme agli altri però non avete più bisogno di comunicare con le varie modalità tipo looking for group con la possibilità di raidare insieme agli altri senza neanche stare lì più di tanto a perdere tempo a cercare un gruppo a formarlo eccetera eccetera il gioco vi dà la possibilità di giocare anche diciamo l'end game senza avere una gilda senza avere degli amici senza neanche dire ciao ok ora l'esperienza di gioco ne risulta molto illuminata proprio perché poter socializzare anche attraverso un videogioco io credo che sia una cosa molto importante e con world of warcraft c'era un un canale comunicativo che non ho mai visto con altri videogiochi al di là dei soliti haters al di là dei soliti delle persone che si insultano che pissano eccetera eccetera nel gioco all'inizio la comunità era molto forte e insegnava spiegava aveva la pazienza di stare lì un po come ho trovato su warframe su warframe la community è molto molto amichevole e aiuta spesso quindi niente world of warcraft dal 27 di agosto probabilmente lo vedrete sul canale di sicuro di sicuro di sicuro se server girano bene già dal primo di agosto cosa che spero no scusate dal 27 di agosto subito partirà partirà un video io non so quanti di voi invece adesso apro un'altra parentesi quanti di voi a quanti di voi piacerebbe un uno strategico a tempo reale cioè un rts tipo starcraft anno 1800 che ci stavo giocando insomma uno strategico io non so quanti di voi a quanti di voi piacerebbe che io giocassi a un gioco del genere perché io quando ho cominciato a giocare col computer a parte i giochi tre virgolette cretini semplici eccetera il mio primo approccio con il multiplayer al di là di quake è stato starcraft l'uno avevamo una gilda avevamo un gruppo di amici che giocava tanti tanti anni fa io giocavo la notte con un modem a 56k e dovevo fare attenzione che mia madre non mi staccasse non mi alzasse la cornetta perché sennò mi cadeva la connessione e addio partita ed eravamo anche bravi ovvio c'erano già i coreani che stavano nascendo crescendo però devo dire che allora tanti di noi andavano nel canale coreano a giocare contro i coreani e non ce la cavavamo poi tanto male poi vabbè la cosa ovviamente è scappata di mano quelli probabilmente lo fanno sia per studio che per lavoro di giocare a starcraft perché ormai penso che siano loro i dominatori incontrastati di quel gioco comunque se voi foste interessati magari qua sotto nei commenti fatemi sapere io mi ricordo che anche tanti anni fa giocavo a command and conquer però giocavamo uno contro l'altro io mio amico altro bel giochino devo dire tanti bei ricordi insomma ecco uno dei motivi per cui tornerò a giocare a world of warcraft sono proprio i ricordi perché devo dire che quel gioco lì è stata un'esperienza che non ho che non avevo mai provato prima e soprattutto che non ho mai potuto ripetere da nessun'altra parte non so quanti di voi hanno giocato un mmo però devo dire che un'esperienza del genere va fatta va fatta ok un'altra domanda che vorrei farvi stavolta sono io a farvi le domande a quanti di voi piace twitch quanti di voi mi seguirebbero su twitch e come mai a quelli che hanno anche twitch non mi seguite su twitch perché faccio tutte queste domande su twitch perché twitch come piattaforma di streaming è meglio di youtube molto meglio e quindi sarebbe il caso lo dico anche per voi perché la qualità del video è migliore e in più ci sono un sacco di di gadgettini tipo emoticon chat particolari eccetera eccetera che insomma vi fanno vivere un'esperienza un po' più come dire interattiva quando quando faccio le live inoltre se non sbaglio mi hanno dato pure la possibilità di mettere le maschere quindi se mi volete vedere con una maschera mentre faccio lo streaming maschera virtuale ovviamente è twitch dalla possibilità youtube o no comunque anche qua fatemi sapere che cosa ne pensate perché per me sarebbe meglio fare i video streaming su twitch nonostante ci sia una competizione sfrenata su twitch rispetto a youtube è molto 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 meglio l'agenziale è già imballata ma ad agosto è imballata che palle no era un'impressione tra un po' ci deve entrare va bene poi devi pensare a cos'altro potrei chiedervi ah altra cosa ve lo chiedo come favore personale quando guardate un video il mio video no non è imballata no sono sopra il cavalcami quando guardate un mio video se lasciate un like o un commento oppure lo condividete ovviamente con amici o conoscenti eccetera eccetera insomma con chi sapete possa interessare il mio video non fate altro che aiutarmi e mi aiutate davvero perché se il canale come dire diventa adesso è importante una parola grossa però se arriva gente se i video vengono visti e se comincia come dire a girare l'economia chissà se in un futuro si potrebbe anche pensare di non so farlo diventare qualcosa di più serio che non io che la sera quando non sono stanco mi metto a giocare cioè potrebbe diventare un'attività un pochettino più continuativa perché so che c'è un interesse anche da parte vostra a a seguirmi c'è un interesse a insomma a far crescere il canale eccetera eccetera perché il canale non cresce solo perché io metto la sparo lì tre video al giorno il canale cresce perché voi iscrivete voi mettete like voi condividete voi contribuite a farlo crescere quindi vi ripeto più interagite col canale più interagite con i video e meglio è sta voi vedermi tutti i giorni o una volta al mese io quando ho tempo mi metto lì gioco registro faccio le live chiacchiero con voi e ogni tanto metto qualcosa sui social su instagram piuttosto che su facebook eccetera però non posso farlo o meglio lo faccio comunque perché è una cosa che mi piace ma se so che da parte vostra c'è un interesse serio costante allora divento anch'io costante serio no ma costante si ok è bravo che supera da testa ma eh sì non sono manco arrivato a Milano che già ci sono i rompiballe provate a immaginare cosa potrebbe essere una live al pomeriggio l'ho fatta una volta sola no per chi tra l'altro non mi ha fatto notare adesso non mi ricordo chi mi ha messo come commento a un video che ho fatto tipo alle due di notte quanta gioia di vivere che hai nella voce io vorrei vedere voi alle due di notte dopo aver lavorato tutto il giorno essere tornato a casa aver preparato da mangiare giocato con i figli fatto le faccette domestiche eccetera eccetera mettersi lì alle due di notte a registrare un video la freschezza che ne può scaturire io lo faccio perché a me piace giocare sono un nerd ho la scimmia del gioco e mi piace giocare poi di corredo a questo io ci faccio anche dei video e ci chiacchierò pure sopra ma non è semplice ve lo assicuro non è semplice c'è chi è spontaneo c'è chi deve prepararsi eccetera io la faccio così alla buona però vi assicuro che se io dovessi farlo durante il giorno la mia voce sarebbe molto più brillante molto più allegra e piena di gioia di vivere immaginate e questo dipende da voi a me io sono guardate non avete idea sarei ovviamente il primo e anche l'unico a dire basta smetto di lavorare ho degli introiti che mi permettono di non lavorare più e di fare invece solo video io non vorrei dire youtuber perché suona brutto oggi dire facciolo youtuber poi tra l'altro se io dovessi dire una cosa del genere a mia moglie penso che mi segherebbe le gambe e che dice cioè lascia un lavoro a tempo determinato per farlo youtuber si se gli introiti o come dire la fama mi fa diventare qualcuno insomma mi da la possibilità di farlo ne conosco due o tre che hanno mollato il lavoro e fanno quello adesso io non so che lavoro facessero o che introiti io non sono di certo né quadro né dirigente e il mio stipendio è uno stipendio normale quindi solo che ovviamente qua non siamo neanche alla sussistenza ve lo dico ma non ve ne faccio una colpa non lo faccio come lavoro quindi lo so che le entrate per essere una cosa così fatta la buona sono pari a zero è normale quindi non 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 me ne faccio una ragione di vita cioè è così basta il giorno che diventerà qualcosa di più serio allora se ne discuterà ok adesso fatemi stare sui 70 all'ora perché se no mi becco una multa che non finisce più sono uscito dalla tangenziale sono su Palmanova perché è di Milano o meglio fuori Milano questo Palmanova ha messo sto cavolo di autovelox maledetto tipo quello che c'è sul ponte della Chisolfa va bene va bene ne parliamo dopo che ho una telefonata in ballo ok bella va bene siamo quasi arrivati devo trovare il parcheggio e qua ragazzi è dura molto dura soprattutto se lo voglio non a pagamento lavoro nella zona di Turro vicino a Via Le Monza anzi attaccato a Via Le Monza cosa incredibile che su tre lavori che ho fatto tutte e tre zona Via Le Monza è troppa coincidenza secondo me va bene ragazzi io spero che vi abbia fatto piacere questa chiacchierata in macchina spero di farne altre e noi ci vediamo probabilmente stasera con la live se no oggi pomeriggio mentre registrerò il tour dell'ufficio che comunque vedrete stasera perché ora che lo monto e lo edito e lo carico lo vedrete forse anche domani va bene quindi probabilmente ci vedremo prima in live che non in questo video che vedrete o quello prossimo nell'ufficio va bene raga vi saluto e buona giornata buon divertimento buon mare per chi sta facendo il bagno mi raccomando studiate perché a settembre si torna sui banchi quindi diamoci da fare diamoci una mossa vediamo di non essere l'ultimo paese europeo per quanto riguarda cultura e scuola ok? dipende anche da voi eh bella! ciao ciao! ciao!